Una sera di Natale, quella del 25 dicembre del 1991, l'impero sovietico si dissolveva con la dichiarazione del presidente Mikhail Gorbachev, termino la mia attività. Le riflessioni di Pavel Palacenko, ex consulente di Gorbachev, oggi alla guida dei rapporti con la stampa per la sua fondazione. Sotto la direzione di Mikhail Gorbachev abbiamo pubblicato un libro intitolato L'Unione avrebbe potuto essere preservata. L'idea principale è che era impossibile mantenere l'Unione sovietica così com'era. Oggi questo è chiaro. Quando la leadership del paese se ne rese conto, pensò a un nuovo trattato con le repubbliche, in cui le repubbliche stesse decidevano quali poteri avrebbero avuto e cosa avrebbero delegato. Credo che questa fosse la strada giusta. Probabilmente non avremmo assistito a conflitti e guerre tra repubbliche, cosa qui invece assistiamo oggi. Dunque quali sono state le ragioni principali della fine dell'Unione sovietica? Ci sono stati due eventi fondamentali, il fallito colpo di Stato nell'agosto del 1991 e gli accordi di Belaseva. Naturalmente il desiderio delle repubbliche di costruire i propri stati nazionali ha avuto un ruolo centrale, così come la diversa natura delle repubbliche che componevano l'Unione sovietica stessa. È stato molto difficile tenere insieme un gruppo così eterogeneo di repubbliche come l'Estonia o il Turkmenistan, ma nonostante questo penso che in qualche modo fosse ancora possibile. Molti analisti criticano Mikhail Gorbaciov per il ritardo nell'introdurre le riforme economiche. Lei è d'accordo? In questi trent'anni abbiamo capito che le riforme economiche si rivelano difficili e lunghe da attuare. Quindi chi critica Mikhail Gorbaciov per non essere stato in grado di farlo in tre, quattro, cinque anni sbaglia, anche se c'è sicuramente del vero. Le difficoltà economiche hanno giocato un ruolo nel declino della popolarità di Gorbaciov e nel desiderio delle repubbliche di uscire da questa situazione da sole.